eccoci qua amici miei benvenuti o bentornati sul canale dopo il meglio dell'anno non poteva mancare il peggio 30 film proprio come in tutti i video delle mie classifiche annuali ho durato una fatica incredibile per selezionarne solamente 30 perché di roba brutta ne è uscita molto di molta di più in questo 2023 e quindi qua vedete ho la lista che non vi faccio vedere però è piena di cancellazioni perché avevo inserito dei film poi ho detto no ma questo è ancora più brutto quindi quale scelgo vabbè ragazzi sono rimaste fuori pellicole da mettersi le mani nei capelli ma ho dovuto fare una scelta un sacrificio spero innanzitutto che abbiate visto la mia classifica sui 30 migliori film perché voglio sapere la vostra ma oggi iniziamo con i 30 peggiori siete pronti siete carichi siete forti per ascoltarmi perché credetemi ci sono delle pellicole che rischiano di farvi sognare mamma ebbe nella notte che gioca a nascondino con gargamella io vi avverto siate pronti perché io direi di iniziare subito da uno dei film più assurdi più fuori di testa più brutti dell'anno che io ho visto al cinema per farmi del male basterebbe mostrare la locandina ladri di natale film italiano di francesco cinque mani ora se le avesse usate tutte per scrivere qualcosa di migliore sarebbe stato meglio però questo film che vuole essere un po live action un po animazione che chiamiamo la animazione è talmente brutta che sembra fatta con paint però nella sua filmografia tra l'altro francesco cinque mani cinque mani a cui voglio bene mi ha anche commentato la recensione in cui ho distrutto questo film io apprezzo vedete indipendentemente dal gusto anche l'intelligenza di una persona che capisce la mia ironia e che quindi non se la prende perché alla fine io non ho detto niente contro la persona ma contro il film non ci sono riuscito quindi se vedrai anche questo video francesco cinque mani ti voglio bene ecco ecco forse l'hai visto perché è tremato tutto invece sono stato io a tirare un colpo al tavolino perdonatemi però dicevo nella sua filmografia c'è proprio una una saga una saga di questi film natalizi tipo ladri di natale che è uscito in sala ma poi c'è anche sherlock santa ma poi c'è anche natale con i puffins ma poi c'è anche billy's magic world ma poi c'è anche kid santa e sono tutti film dove oltre a tornare babbo natale o chi per lui beh presentano nel cast attori di rilievo in ladri di natale c'è michael madsen c'è tom arnold io non lo so forse avevano bisogno di soldi che poi sono film anche questo dura un ore dieci quindi filmettini nini due scapestrati ladri nei panni di babbo natale quindi travestiti che si rinchiudono si intrufolano in casa di un ragazzino per fuggire dalla polizia questo ragazzino bambino li scambia per i babysitter che botta che aveva non lo so e questi leggono a lui un racconto e il film poi ci fa entrare dentro quel racconto con un'animazione che definire brutta e fargli un complimento e poi l'animazione entra anche nel reale il reale nell'animazione quindi è tutto un entrar dentro mi sono entrati anche nella testa speravo mi facessero un lavaggio del cervello generale per dimenticarmi quel che avevo visto così non è stato ladri di natale primo film dell'anno di tutti questi film di cui parlo troverete la recensione sul mio canale quindi se volete un parere più approfondito a vostro rischio e pericolo ladri di natale c'è è disponibile ora già iniziare con ladri di natale vuol dire farsi del male ma se poi continuo con anatar vuol dire proprio voler morire dovrebbe essere il primo film di questo nuovo sottogenere parodistico denominato spaghetti fai e io aggiungerei ma lo fai apposta no era meglio se si mangiavano gli spaghetti perché anatar è una delle più brutte parodie che siano mai state fatte io ve lo giuro in confronto epic movie è un capolavoro diretto da tal lorenzo dante zanoni che si è rifiutato di palesarsi tant'è che il film è uscito con la scritta regia alan smithy quindi ha usato uno pseudonimo lo pseudonimo che si utilizza quando non si riconosce un film io vi giuro sembra di vedere un filmino amatoriale tu stai prendendo avatar di james cameron vuoi fare la parodia l'accetto anzi penso è un prodotto italiano chissà comunque zio greggio con le sue parodie molto spesso mi ha divertito anatar è un qualcosa di allucinante che addirittura ha già portato ha già buttato i semi per delle continuazioni e una di queste è già uscita e sarà sempre nel peggio di quest'anno e ne parleremo più tardi perché vogliono fare anche un universo condiviso ma di anatar se non vi siete visti la mia recensione disponibile sul canale basterebbe dire che il grado di battute che possiamo trovare all'interno del film di questo livello dove hai messo questa cosa qua perché tutte sono anatre nel film oppure che canzone ascoltiamo another unbite the duck mare ma budella dell'eva incarcerata nel carcere di dell'isola d'elba porta azzurro e purtroppo dobbiamo proseguire con il cinema italiano che è stato protagonista nel meglio dell'anno ma che ahimè si fa sentire anche qua nel peggio roberto d'antona con idden verità sepolte sbaglia su tutta la linea perché in un film che vorrebbe parlare di casi di cronaca nera ispirato a fatti realmente accaduti non si può ogni due per tre non credere a quel che stiamo vedendo con una recitazione approssimativa da parte della maggior parte dei personaggi protagonisti con delle situazioni ai limiti del ridicolo dove tutto quello che si vede risulta macchiettistico risulta sopra le righe io non riesco a spaventarmi di fronte anche alla cattiveria di un serial killer per quanto crudele se poi ci troviamo in delle situazioni così paradossali così poco credibili così buttate via con problemi di audio con rumori di sottofondo inopportuni ma già dalla locandina con scritto idden verità sepolte e sopra ispirtato a fatti realmente accaduti ispirtato almeno correggi e scrivi ispirato sono andato a vederlo anche al cinema mi dispiace perché apprezzo il cinema italiano indipendente e mi piacerebbe sempre sostenerlo ho visto tranne caleb tutti i film di dantona ma ogni volta trovo gli stessi problemi gli stessi difetti e quindi idden non può non esserci in questa classifica del peggio di fine anno e poi altro difetto non lo puoi far durare oltre due ore non è un colossal non sto guardando napoleon di ridley scott sto guardando idden verità sepolte cioè veramente nemmeno profondo rosso dura così che è un capolavoro figuriamoci se io devo vedere più di due ore di assurdità ma ci sono delle scene talmente ridicole che vi prego guardatevi guardatevi la mia recensione dove le descrivo perché in sala non smettevo più di ridere mi dispiace lo ripeto però idden verità sepolte proprio no 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 il mio amato marvel cinematic universe apre le danze alla fase 5 con uno dei film più brutti di tutta la saga iniziata nel 2008 con iron man ant man and the wasp quantum mania ora sembra strano perché comunque dietro la macchina da presa ritorna payton reed che mi aveva convinto con i primi due capitoli seppur non fossero questi filmoni dovrebbero presentare meglio il multiverso il regno quantico approfondirlo molto di più ed invece ci troviamo di fronte ad un film sbagliato sia nella scrittura con degli errori grossolani al livello di effettistica io non ci volevo credere è talmente così raffazzonato così posticcio ogni effetto visivo e poi arriva quel testone che dovrebbe essere il calabrone del primo film che sembra un misto fra mussolini mastrota e massimo boldi mentre mangia un piatto da rachidi io non lo so non so come si fa a vedere un film in post produzione dire ok facciamolo vedere al pubblico perché ant man and the wasp quantum mania non è nemmeno in grado di approfondire certe tematiche non ci dà delle risposte sensate sul multiverso e se cerca di darle entrano in conflitto con altre cose che già ci avevano detto che è un errore ormai di tutto quel che sta accadendo da quando il multiverso è stato presentato e quindi nell'universo errori di questo tipo secondo me ne troveremo ancora di più però non ci si diverte è un film moscio per quel che riguarda la regia le scene d'azione sono così inconcludenti che non ce n'è una iconica poi io non sono stato uno di quelli che han criticato kang di jonathan measures o kang che dir si voglia però boh è proprio un film bruttissimo ant man and the wasp quantum mania che dopo averlo finito già l'avevo dimenticato non sono soddisfatto e pensare che la fase del multiverso o per di più la fase 5 si apra con questo pessimo lungometraggio mi fa temere per il futuro perché anche the marvels è stato mediocre ma non or ma non orribile quanto ant man and the wasp quantum mania ora io non ho niente contro alessandro siani come comico anzi quando è ospite in programmi televisivi o coprotagonista in cine panettoni che mi piacciono commedie come benvenuti al sud lo trovo pure piacevole il problema nasce quando è l'assoluto protagonista dei film che dirige che a me personalmente soggettivamente non dicono niente tramite amicizia l'ho visto e vi dico la verità a distanza di quasi un anno fatico a parlarne perché me lo sono completamente dimenticato ricordo solo che dall'inizio alla fine alessandro siani forza esagera la sua comicità invece che lavorare per sottrazione carica il più possibile ogni battuta risultando quindi pesante almeno per me poi so che ha tantissimi stimatori e questa cosa mi fa piacere ci mancherebbe altro nonostante nel cast fossero presenti max tortora matilde gioli che sono tutti attori che apprezzo tramite amicizia vorrebbe veicolare buoni sentimenti parlare appunto del tema dell'amicizia dell'amore ma il risultato è parecchio insufficiente con situazioni improbabili poco credibili con questo continuare a scimmiotare troisi senza riuscirci per quanto siani se ne discosti però e anzi più volte ha detto no ma ci mancherebbe altro massimo rispetto per troisi io faccio il mio cinema però io ragazzi mi sembra di rivedere quasi una pallida imitazione e non ce la faccio è proprio un film dimenticabilissimo che a me non ha lasciato alcunché parecchio noioso e che poteva avere una trama anche carina uno spunto interessante se fosse stato poi raccontato in altro modo invece che perdersi in un bicchier d'acqua in situazioni che lasciano il tempo che trovano e quindi che vi devo dire vediamo adesso se con il prossimo in uscita in questi giorni nelle sale succede anche nelle migliori famiglie potrò divertirmi ma già dal trailer ho paura di trovarmi di fronte alla stessa identica problematica che riscontro in ogni suo film allora ragazzi sappiate che in questa lista del peggio dell'anno saranno presenti anche film da tanti amati blasonati lodati e che io invece ho trovato terribili perdonatemi per questo voglio iniziare con il pessimo women talking il diritto di scegliere di sarapolli che ha addirittura vinto il premio per la miglior sceneggiatura non originale agli oscar per me premiazione scandalosa e immeritata eppure si vorrebbe parlare di un tema importante perché comunque si racconta la storia di alcune donne di una colonia mennonita nel 2010 che denunciano gli uomini del posto di averle stuprate nella notte stordendole con un tranquillante per mucche e riusciranno a fare incarcerare queste persone gli uomini della zona in difesa di quelli portati in carcere andranno subito nella città vicina per pagare la cauzione e quindi le donne che rimarranno sole per due giorni si ritroveranno a prendere una decisione importante restare fare finta di niente al ritorno degli uomini scappare risultare vigliacche o continuare la guerra contro gli stupratori è un tema importantissimo si parla di violenza sulle donne dell'importanza di non abbassare la testa il problema è che lo si fa in maniera vergognosa secondo me perché dall'inizio del film la grandissima sceneggiatura di questa pellicola della stessa polli ci dice che queste contadine che queste donne che hanno sempre lavorato nella colonia non hanno mai studiato quindi io spettatore come posso credere che queste per quasi due ore parlino correttamente in italiano in modo grammaticalmente ineccepibile e che siano in grado di formulare discorsi concetti così perfettamente sensati quando l'educazione non l'hanno mai ricevuta non sanno nemmeno come si scrive come si mettono in fila due parole e quindi la credibilità del tutto crolla aggiungiamoci che fossero interessanti discorsi che fanno ci fosse un ritmo più serrato è talmente noioso pretenzioso pretestuoso ma non dimentichiamoci anche di definirlo irritante di definirlo presuntuoso questo film che si arriva alla fine e ci si sente presi in giro io ricordo in sala persone che andavano via poi ci mancherebbe a tanti è piaciuto ha vinto un premio prestigioso quindi potrei essere in minoranza ma se c'è una cosa che non sopporto è questo tipo di cinema con la puzza sotto il naso che vorrebbe raccontare che vorrebbe parlare che vorrebbe veicolare tematiche importanti e riesce solo a risultare invece posticcio finto fasullo che filmaccio women talking il diritto di scegliere e continuiamo con un film che vorrebbe parlare di temi importanti ma senza riuscirci ma anzi risultando ridicolo l'italiano educazione fisica di stefano cipani una preside chiama i genitori di questi ragazzi nella palestra della scuola superiore che frequentano perché sono stati accusati di aver stuprato una ragazza con tanto di prova video la cosa interessante è che i genitori inizialmente restano stupefatti per poi difendere a spada tratta i rispettivi figli quindi poteva essere un qualcosa di molto forte questo film una pellicola che poteva allo stesso tempo essere d'inchiesta ma anche di denuncia i genitori pronti a difendere i figli in qualsiasi modo anche di fronte all'evidenza solo che è talmente tutto ridicolo raffazzonato non si crede a nessun dialogo anzi la sceneggiatura dei fratelli di innocenzo è pessima ci sono dei dialoghi così sopra le righe così finti che magari potevano andare bene nella fiesta teatrale da cui il film è tratto ma qua non ci siamo e lo sapete che io apprezzo il cinema dei di innocenzo qua un passo falso clamoroso anche gli attori non li ho mai trovati credibili la mezzogiorno rubini santa maria la finocchiaro anzi spesso recitano esagerando quindi mai per sottrazione è un film che risulta assurdo già nelle promesse nelle premesse perché tu chiami genitori nella stessa palestra dove è avvenuto uno stupro quindi non chiami la polizia non c'è un non lo so una zona anche chiusa dove non si può entrare c'è stato uno stupro ci sono ancora magari che ne so le impronte ci sono ancora magari quelle cose che non possono essere toccate quindi cavolo cosa fai invece di chiamare la polizia chiami i genitori dei figli chiama i genitori ma con la polizia poi nel film ti spiegano il perché prima abbiano chiamato i genitori ma non torna è tutto assurdo così come è assurdo che questi ragazzi che presumibilmente dovrebbero capire perché i genitori sono stati chiamati a scuola e invece stanno tranquilli per ore 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 un giorno intero a giocare a pallone fuori come se non avessero fatto niente cioè ma se so di aver fatto una cosa così grave a scuola e chiamano i miei genitori io la prima cosa che penso è cavolo mi hanno scoperto e per tutto il film sto tranquillo a giocare a pallone fuori mentre i miei genitori sono a parlare con la preside è proprio un film sbagliatissimo noioso ridondante ripetitante proprio brutto nei dialoghi e nella scrittura una grande occasione sprecata forse lo spettacolo teatrale di giorgio scianna era meglio ma questo è veramente da buttare via e continuiamo con il cinema italiano perché uomini da marciapiede di francesco albanese è veramente un film senza capo né coda che non si capisce quale genere voglia abbracciare se è più una commedia demenziale una commedia classica un film drammatico un film dove invece si vuol mostrare lo slapstick perché ha mille idee che non sviluppa bene mi dispiace perché all'interno del cast troviamo paolo ruffini che sapete quanto apprezzo è un amico ma cioè sembra di vedere una pallida imitazione dei film con con pozzetto e villaggio le comiche con situazioni similari poi ad un certo punto si vuole imbastire il tutto con il dramma che prende il sopravvento e non ci si riesce perché è tutto così raffazzonato tutto così poco credibile si racconta la storia di questi uomini da marciapiede perché scelgono di prostituirsi per arricchirsi e pagare un debito ma è talmente tutto scritto con superficialità è così scritto tutto alla carlona che anche una storia nella sua assurdità divertente si avesse scelto un genere di riferimento senza provare a fare un mischione inconcludente io alla fine potevo anche divertirmi perché qua e là qualche risata l'ho anche fatta ma è tutto talmente imbarazzante in certi momenti cioè avete presente quando si cerca di far ridere non ci si riesce e tu provi pena e tu provi vergogna quando sei in sala perché dici cavolo ma c'è veramente io dovrei ridere veramente hanno pensato che questa cosa tra l'altro già vista e rivista una cosa che magari fatta da altri già vista in altre pellicole funzionava qua è replicata è resa quasi una pallida copia macchiettistica e parodistica e dici boh c'è anche clementino nel cast fatemi dire che clementino recita bene non è solo un bravo rapper c'è una serena grandi sprecatissima un francesco pannofino sprecatissimo non lo so è talmente strano come film uscito in pochissime sale che boh se deciderete di vederlo vi trovereste di fronte ad un film proprio strano 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 mi dispiace per ruffini che invece ha saputo convincermi con il suo rido perché ti amo con il suo bellissimo documentario perdutamente con il suo ragazzaccio tutti e due i film li ho trovati carini però uomini da marciapiede di tal francesco di tal francesco albanese è veramente 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 brutto e vogliamo continuare con quei film molto amati e che a me non sono piaciuti per niente beh è arrivata l'ora di parlare di sick of myself diretto dal norvegese christopher borgli che ho trovato orribile l'ho detestato dall'inizio alla fine il nervoso che ho provato al cinema può essere paragonato solo a quello che ho vissuto con everything everywhere all at once l'anno scorso meno male christopher borgli a differenza dei daniels si è già fatto perdonare con il buon dream scenario hai mai sognato quest'uomo con nicolas cage ma questo film d'esordio è veramente bruttissimo per me eppure le premesse erano bellissime si vuole parlare di una ragazza che si sente poco considerata vorrebbe essere al centro dell'attenzione allora sceglie di assumere dei farmaci che le sfreggeranno il viso lei lo sa lo fa consapevolmente cerca proprio questi farmaci che non si trovano più sul mercato perché avevano provocato questa problematica nelle persone che assumevano queste medicine quindi riuscirà nel suo intento ormai diventa al centro dell'attenzione tutti ne parlano tutti ne parlano il film finisce il film preferisce essere stupido e demenziale piuttosto che saper amalgamare a quella comicità grottesca che poteva starci bene anche una riflessione sul mondo una riflessione su quello che si fa pur di apparire no è meglio buttarci lì l'aspetto allegorico demenziale metaforico queste continue scene di immaginazione il mischiare la realtà con con ciò che si sogna no basta cioè ok che a livello di temi quello dell'apparire ritornerà anche nel secondo film del regista norvegese ma se in dream scenario è trattato bene qua è proprio buttato via io mi aspettavo ad un certo punto che ci fossero delle conseguenze a questo successo inaspettato per colpa di questa pelle sfregiata che farà illuminare no la vita di questa persona come voleva pensavo che ad un certo punto magari venisse fuori il pretesto venisse fuori l'escamotage con cui la protagonista è diventata famosa che magari ci potesse essere un confronto con quelle persone che senza volerlo pensando di curarsi hanno avuto a che fare con questa terribile malattia del volto ed invece niente di tutto questo un film che lascia il tempo che trova che preferisce che preferisce puntare sulla scena esplicita anche quella vomitevole pur di approfondire temi importanti relativi alla società dell'essere dell'apparire un film proprio brutto che non riesce nel suo intento satirico che non riesce a farmi ridere perché ribadisco se tu mi prometti una determinata cosa che poi non 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 espandi che poi non non racconti io mi nervosisco non riesco a ridere però sarò una pecora nera perché quando sono andato a vederlo al cinema tutta la sala rideva e io invece ero lì che mi volevo mangiare le mani quindi per me bruttissimo ma è stato presentato al festival di canna la 75esima edizione a tanti è piaciuto alcuni l'hanno considerato straordinario contenti voi io avrei voluto un film molto più aggressivo molto più di inchiesta molto più di denuncia ed invece non ho trovato niente di tutto questo e preferisco di gran lunga un film brutto come quelli che vi ho citato prima anche non lo so l'horror pessimo che arriva nelle sale che almeno ci prova che almeno tenta di spaventare che questi film intellettualoidi con la puzza sotto il naso che pretendono che pensano di comunicare chissà che ed invece girano intorno a mille temi senza centrarne mai uno che brutto film sick of myself e con uno schiocco di dita che magicamente mi fa cambiare l'abito non vi rivelo come ho fatto voglio inserire in questa flop 30 l'ultima volta che siamo stati bambini esordio alla regia di claudio bisio nonché film scritto dallo stesso attore assieme a fabio bonifaci mi aspettavo di emozionarmi di commuovermi perché comunque si racconta una storia di alcuni bambini nella roma del 1943 quindi della seconda guerra mondiale molto legati fra loro fino a che uno di questi ebreo verrà preso e portato nei campi di concentramento gli altri amici non capendo ancora la gravità della guerra decideranno di seguire i binari del treno per raggiungere la germania e salvarlo da un pretesto del genere poteva venire fuori o una pellicola alla jojo rabbit quindi capace di unire dramma e ironia anche un po sopra le righe oppure un qualcosa di non riuscito perché è una è una materia difficile da trattare purtroppo la seconda soluzione è quella che vince visto che al cinema sono rimasto delusissimo è un film sotto certi aspetti irritante non riuscito fra i più brutti degli ultimi anni in campo italiano mi dispiace che ci sia bonifaci a scrivere la sceneggiatura perché effettivamente ha scritto tanti bei film ma questo vuoi che i bambini sono insopportabili in primis vincenzo sebastiani italo non l'ho sopportato dal primo momento lui e federico ielapi nel cinema italiano mi dicono molto poco vincenzo sebastiani l'avevo apprezzato di più in una famiglia mostruosa di debiasi qua è veramente irritante aggiungiamoci che il padre il generale fascista interpretato da claudio bisio è un personaggio odioso quasi poteva non essere all'interno del film perché entra in scena sta tre minuti come a dire sono il regista quindi voglio esserci anch'io forzatamente ed è una caricatura ed è una macchietta del gerarca fascista quindi altro difetto che possiamo trovare ma poi la trama è talmente raffazzonata talmente posticcia talmente malfatta con delle ingenuità con delle assurdità che si sviluppano all'interno del film che dici ma stiamo scherzando cioè io non sto guardando una farza non sto guardando un film comico dove possiamo sospendere l'incredulità arriviamo vi dico solo ad una scena dove italo assieme ai suoi amici riuscirà a mettere a mettere in difficoltà i fascisti attraverso la fionda che neanche pierino di alvaro vitali qua abbiamo dei fascisti che stanno per giustiziare delle persone loro da lontano con la fionda ma cosa sto guardando ma sto guardando un film che vuol parlarmi della cattiveria della guerra che vuol parlarmi anche di quanto non si facessero distinzioni fra grandi piccoli quindi veramente la brutalità con la b maiuscolo oppure sto guardando una una parodia sto guardando un qualcosa di macchiettistico sto guardando qualcosa che mi dovrebbe far dire wow perché poi sul finale si vuole inserire sempre in maniera non riuscita a mio avviso un finale che secondo loro dovrebbe essere anche triste commovente sconvolgente assolutamente no l'epilogo è talmente non riuscito che quando ci rendiamo conto cosa succederà io da un lato godevo avrei dovuto provare un senso di tristezza invece avevo detestato talmente tanto l'attore protagonista il personaggio di italo che quando mi sono reso conto che forse sarebbe potuto andare incontro anche a una brutta fine ho detto meno male perché è un personaggio che sin dall'inizio mi ha irritato ma poi è un film noioso è un film totalmente incentrato su questi discorsi fra bambini vorrebbe essere stand by me ma dei poveri vorrebbe essere un film anche che mostra l'ingenuità di questi di questi amici che ascoltano i discorsi dei grandi che pensano soprattutto italo che la guerra sia bella ma che poi sotto sotto si ritroveranno di fronte alla brutalità che non viene mostrata perché anche quando vediamo dei morti in terra proprio percepiamo che a livello anche di trucco di effettistica sia tutto buttato lì non c'è un minimo di di realismo però vabbè questo è il mio parere a riguardo su un film bruttissimo che mi ha fatto ridere così come in dei momenti ha riso la sala per quanto ingenuo per quanto malfatto e per quanto buttato via con un tema assolutamente interessante ma sprecato non so perché abbiano fatto i mercenari 4 ma vi posso assicurare che è un film inconcepibile diretto da scott wog ora io i primi tre li avevo apprezzati con i loro alti e i loro bassi con le loro ingenuità comunque l'idea di riunire insieme le vecchie star dell'action mi faceva godere qua vediamo un sylvester stallone che spero abbiano pagato bene perché è talmente inutile la sua presenza nel film se non per un colpo di scena che riesce a decifrare a intuire con due ore di anticipo anche quello in un'altra sala a vedere me contro te contro majin bu che io che io non ho parole veramente allora c'è il mitico jason statham che è un attore muscolare che io apprezzo che si ritrova coinvolto in questa missione che porta avanti anche in onore del suo caro amico quindi sylvester stallone morto ora secondo voi io faccio spoiler non mi interessa niente tu prendi sylvester stallone e lo fai morire dopo 20 minuti in un film cioè ma cosa pensavano l'avessero fatto realmente avrei detto ok un po di coraggio ma era talmente prevedibile che poi negli ultimi due minuti sarebbe ritornato che io ho detto va bene aspettiamo perlomeno gli occhi godono un pochino perché c'è megan fox che è sempre una bellissima donna ma per il resto se io penso a quel che han fatto con i primi tre capitoli qua è proprio un film low budget è un film con gli scarti con gli attori che ancora avevano voglia di prestarsi ad un franchise che già con il terzo aveva chiuso le danze in maniera dignitosa un conto fossero tornati proprio tutti 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 per un grande capitolo finale questo è un film talmente stupido con degli effetti visivi certe volte da rivedere sì se vogliamo bene ai personaggi possiamo apprezzare il fatto di rivederne alcuni però cioè effettivamente avrei preferito allora a questo punto uno spin off su christmas cioè su jason statham senza il senza la partecipazione di tutte le altre persone perché è proprio è talmente poco credibile e sto parlando di di un film che basa tutto sull'assurdità e sto parlando di un franchise che basa tutto sull'esagerazione questo a livello di dinamiche a livello di sorprese è così malfatto così anche diretto in modo piatto che non c'è una scena iconica che possiamo ricordarci quando è finito io mi domando veramente vorrei fare un esperimento sociale chiedere a chiunque a chiunque l'abbia visto se durante la visione han pensato realmente che sylvester stallone fosse morto chiunque di voi l'abbia visto me lo dica qua sotto c'è qualcuno che ha pensato cavolo è morto mi dispiace è talmente brutto che sembra un film che è uscito direttamente per il cestone dell'autogrill di roncobilaccio cioè è uno di quelli che trovi offerta 1 e 99 ma che a prezzo pieno costerebbe due cioè talmente di poco spessore di poco valore che cioè tu lo vedi lì e dici ma stai cosa questo me lo compro però io non lo so non lo so ora stallone tornerà per cliffhanger 2 e speriamo bene speriamo in bene perché io stallone lo amo però i mercenari 4 cioè ora si sa che l'horror regala sempre grandi soddisfazioni nelle mie flop 30 dell'anno ma l'esorcista del papa è una parodia di un film dell'orrore ditemi che stavo guardando uno scary movie perché questo film chiamiamolo così che diretto da julius everi vorrebbe raccontare la storia di padre amort è talmente supereroistico è talmente sopra le righe è talmente di fantascienza che più che più che vedere un film dell'orrore mi sembrava di star guardando non lo so alien 16 contro ma zinga cioè allora voi avete la possibilità di trattare la figura controversa di padre amort indipendentemente da chi ci crede da chi non ci crede al suo operato comunque è stato un esorcista riconosciuto dal vaticano più volte si è lasciato andare a dichiarazioni parecchio discutibili sull'omosessualità sul male che vedeva ovunque anche nelle tazzine di caffè e latte e piuttosto di fare un film capace di far pensare il pubblico capace di trattare i chiaroscuri della sua vita quindi i pro e i contro di un uomo che ha dato tutto se stesso per salvare il mondo dal maligno come lui stesso diceva senza fare ironie perché io ho veramente rispetto di chi fa qualcosa credendoci di chi fa qualcosa con passione il problema sorge quando si rilasciano dichiarazioni totalmente prive di ogni logica e di ogni senso quindi tu avevi un personaggio come padre amort e me lo tratti come l'esorciccio cioè ma fammi vedere un film che ha il coraggio di indagare anche nei meandri più oscuri non solo del male ma anche di padre amort vediamo russell crowe che pare il prosciutto della rovagnati vediamo che con la sua lambretta col motorino va da 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 roma all'estero nel giro di un secondo che già litte tutti i domandi ma cosa sta succedendo poi non ci poniamo altre domande altrimenti non ne usciremmo vivi e mi fai un film di fantascienza e mi fai il classico film sugli esorcismi che non ha nulla di diverso dai vari brutti possession di lì l'esorcismo di anna grace di là e the offering di su e l'esorcismo del budello delle loro madri di giù cioè è sempre la stessa solfa però in questo caso ai padre amort hai un attore come russell crowe non me la buttare in cacciara la mia paura era quella di vedere un film che non avrebbe avuto il coraggio di mostrare anche i lati oscuri dell'esorcista quindi un film incentrato sull'elogiarlo e basta ma questo è un film dove oltre ad elogiarlo e non parlare mai dei suoi difetti si butta anche in cacciara talmente tanto che sia un certo punto fosse spuntato charizard e con un rutto di foo avesse fatto prendere veramente fiamme a tutta la 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 roma vaticana io ci avrei creduto perché effettivamente il finale il finale dove c'è il quartier generale degli esorcisti ma sto guardando avengers ma che sto guardando ma tu mi fai un film su padre amort e mi fai il quartier generale degli esorcisti tutti contro un male ma il male mi viene a me che sto guardando il film poi c'è chi si è divertito e meno male meno male almeno non è un film noioso però ripeto io sto guardando film un film che vorrebbe parlare di padre amort io ho letto i libri di padre amort perché ero curioso il mondo dell'esorcismo e non lo prendo in giro per questo perché io non sono nessuno quindi non so se veramente qualche persona è stata veramente colpita dal maligno se ci sono sempre state dietro cause psichiche quindi di malattia mentale io che non sono esperto in materia dico sempre che è importante valutare proprio perché è una materia delicata sensibile se tu mi fai un film parodistico alla scary movie dico vabbè perle ai porci e boh quindi l'esorcista del papa no ragazzi proprio no ma sono sicuro che potrebbero anche nascere dei seguiti quindi mi immagino nel prossimo gabriele amort contro che ne so i mystic nikes allora quando hanno annunciato questo film ho pensato è talmente folle che se riusciranno a gestirlo io mi divertirò come un matto sto parlando di cocain orso di elizabeth banks uno dei film più atroci che mente umana possa concepire la trama questi delinquenti in fuga dalla polizia lasciano cadere dall'elicottero un borsone con dentro una grande quantità di droga che viene ingerita da un orso di 220 chili giù nel bosco questo questo orso tratto da una storia vera tra l'altro inizierà a dare rimato se nella storia vera è morto è morto dopo poco qua con una cattiveria inaudita inizierà ad ammazzare chiunque quindi ho detto dai che 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 cosa tamarra che cosa le cose che piacciono a me ragazzi una rottura di palle che quando è finito il film sono dovuto stare in sala tre ore per cercare dove mi fossero finiti coglioni elizabeth banks non sa dirigere un film noioso è un film che non ha un ritmo sensato per il tipo di film è un film ripetitivo ridondante che non ci regala sequenze iconiche se non forse una che già vediamo nel trailer la cgi funziona a tratti per di più i personaggi te li dimentichi dopo 13 secondi e speri che schiantino tutti nel peggiore dei modi quando ancora non sono finiti i titoli d'inizio arrivare alla fine è una tortura anche perché dura quasi un ore 40 e sembra di vedere 16 stagioni di beautiful sottotitolata in aramaico c'è un reili otta povero reili otta e gli voglio un bene sprecato povero reili otta ragazzi stiamo parlando di reili otta cioè è anche poverino morto è uno degli ultimi film che avrebbero mostrato l'attore in un ruolo che ruolo è coca in orso porca miseria che mattonata nella testa cioè lo stesso film diretto che ne so da un regista capace di trattare la materia più esagerata più sopra le righe più tamarra cioè non lo so immaginatevi lo stesso film diretto da un robert rodriguez immaginatevi lo stesso film diretto da chi si diverte facendo cinema e non da chi non sa tenere in mano la macchina da presa con delle sequenze proprio che tu dici va bene basta basta un film prolisso un film poi talmente stupido a livello di trama ok già la pretè il pretesto di base è sopra le righe ma nonostante lo sia uno spettatore si può aspettare un minimo anche di intelligenza nei personaggi protagonisti che cercano di sopravvivere agli attacchi dell'orso tra bambini che tu vorresti tagliare a pezzettini e mandare tramite posta prioritaria a las vegas come direbbe fantozzi tra adulti ancora più scemi dei bambini coca in orso è veramente inconcepibile pablo larraine è un regista che amo che mi ha sempre colpito e mai avrei creduto di inserire nel peggio dell'anno il suo nuovo film ma el conde mi ha deluso terribilmente proprio perché sono un fan dico senza problemi che questa sua nuova opera l'ho trovata bruttissima si vuol raccontare la storia di pino chè come se fosse sempre stato un vampiro solo che la premessa interessante non riesce a sviluppare una storia appassionante o coinvolgente non mi sono piaciuti i colpi di scena poteva essere molto più crudo non mi basta la tecnica riuscita perché che il regista in questione sappia girare beh è palese avrei preferito che oltre ad una buona tecnica riuscisse attraverso la messa in scena a veicolare molto di più a far brillare una sceneggiatura spenta dove fra l'altro alla fine c'è un colpo di scena che ho detto ma perché ma perché dovrei dire wow ma cosa mi sta raccontando non ho percepito quel graffio di larraine non ho percepito quell'ambizione che ha sempre larraine di regalarci oltre all'intrattenimento anche un uno stimolante riflessivo pensiero una volta che una sua pellicola finisce cioè dopo il bellissimo spencer che era il suo penultimo film prima di questo ecco lì l'horror l'ho sentito in un film che non voleva essere horror ma che ho considerato ottimo qua nel film il el conde el conde si vorrebbe anche abbracciare l'horror ma assolutamente la cosa non è riuscita è un film proprio pesante un film noioso dal ritmo inutilmente dilatato quindi no pablo larraine spero torni sui suoi passi però è piaciuto a molte persone sarò la pecora nera ma sono sincero poi ora ne sto parlando a grandi linee sul canale di questo e di tutti gli altri film che ho inserito nella flop 30 troverete la recensione mamma mia che cosa orribile 65 fuga dalla terra co diretto da brian woods e da scott beck eppure adam driver protagonista c'è un dinosauro che dalla caccia ai personaggi principali che si devono salvare dal trailer mi aspettavo anche qualcosa di interessante di coinvolgente è talmente stupido già nella premessa 65 milioni di anni fa prima della nascita dell'uomo chi spunta davanti l'obiettivo un uomo o come prima della nascita dell'uomo mi fai vedere un uomo vabbè comunque prima della nascita dell'uomo esisteva già l'uomo si finisce sulla terra c'è un dinosauro rottura di spelotas per quasi un'ora e mezzo che io l'ho trovato così piatto senza verve un film che sembra uscito veramente dagli scarti delle sceneggiature di hollywood non so come adam driver abbia potuto accettare magari è stato pagato tantissimo me lo auguro ma è proprio spento non c'è una sequenza che noi spettatori possiamo ricordarci il dinosauro realizzato pure bene a livello di computer grafica è perennemente malutilizzato tu speri che uccida tutti perché non te ne importa niente dei protagonisti non te ne importa niente della loro storia non c'è un minimo approfondimento se non piattissimo sembra di vedere poi la scopiazzatura di altre pellicole che hanno avuto giustamente più successo e che sono migliori ma questo film che è stato praticamente anche spernacchiato un po ovunque passato completamente in sordina si chiama 65 e sono i battiti del mio cuore al secondo mentre lo guardavo perché dicevo porca miseria che sta succedendo non ce la faccio arrivare alla fine sarà una tortura ma fortunatamente 65 fuga dalla terra è finito e io ho fatto la fuga dal cinema che è stata molto più interessante anche qua so che il film di cui sto per parlarvi è stato apprezzato io l'ho definito pessimo e mi sto riferendo a renfield di chris mckay eppure su carta il parlare di renfield che si vuole allontanare dal conte dracula mi sembrava interessante ed invece una noia perenne un personaggio interpretato costantemente sopra le righe da nicolas cage che non mi ha lasciato alcunché uno splatterone ma che non risulta graffiante ma che non risulta divertente io in sala provavo proprio tedio fastidio soprattutto quando l'effetto comico non riusciva a scalfirmi minimamente mi ricordo che appena sono iniziati i titoli di coda sono corso fuori perché non c'è mordente perché anche le premesse più interessanti sono buttate via per di più ci sono sotto trame che già sto dimenticando mentre ne parlo che mentre vedevo il film pensavo ma a cosa servono non ci si poteva concentrare solamente sul personaggio di renfield senza buttarci dentro una sottotrama mi ricordo c'entrava la polizia vi giuro fatico a ricordarmi perché come l'ho visto l'ho rimosso ho preferito di gran lunga il film demeter che è uscito su prime che tanti hanno criticato e che invece ho trovato ben riuscito con i suoi difetti ma senz'altro più che dignitoso non è finito nel meglio per ovvi ragioni perché non l'ho considerato così straordinario ma rispetto a renfield è un capolavoro gli you nuts a parte sotto il sole di riccione che considero carino hanno sbagliato tutti i film successivi per quel che mi riguarda certo non hanno mai fatto roba pessima perché altrimenti ci arrabbiamo grosso guaio all'esquilino con chi viaggi li ho trovati mediocri ma niente di eccessivamente brutto fino a che non è arrivato elf me che doveva essere il film di punta natalizio di quest'anno di prime video cioè del 2023 lo attendevo perché lo sapete apprezzo la commedia leggera italiana poi cresciuto a pane cine panettoni non vedo l'ora che arrivi il natale per divertirmi con le commedie di oggi elf me l'ho trovato veramente noioso irritante federico ialapi è un attore che non sopporto mi dispiace mi ha saputo convincere in pinocchio di garrone ma già in a casa tutti bene di muccino io non lo so non è mai credibile recita costantemente in modo schizzato anche qua in un film che vuole scopiazzare mille altre pellicole senza essere mai all'altezza c'è una scena che ricordo sempre che ho ripetuto già in varie recensioni in cui lillo che è simpatico ci mancherebbe ma perché fa se stesso va in bici volando con il bambino quindi con federico ialapi dovrebbe essere una sorta di et e mi viene da dire no proprio no e loro in bicicletta sono felici no che volano nel cielo e ad un certo punto primo piano su il ragazzino federico ialapi che inizia ad urlare è bello è fighissimo con veramente le vene che gli scoppiano nel collo poi quando si arrabbia sempre urla ma basta io vi giuro non ce la faccio inconcepibile a differenza di a differenza del film in fuga con babbo natale che al netto delle sue ingenuità ingenuità ho trovato proprio carino con un bambino protagonista bravissimo che si amalgamava bene con giampaolo morelli qua poi aggiungiamoci che il film ha una trama già vista mille volte tu dici perlomeno funzionano i protagonisti non funzionano piuttosto allora mi riguardo mister magorium e la bottega delle meraviglie mi riguardo jack frost mi riguardo tutti quei lungometraggi a cui elf mi cerca di ispirarsi ma senza riuscirsi riuscirci anche perché poi il green screen è terribile le scene che dovrebbero farti dire wow si potrebbero indirizzare a sequenze in cui si scende con uno slittino giù da una discesa è proprio un film buttato via se si fosse ambientato totalmente nel mondo di babbo natale degli elfi sarebbe stato forse più carino ma di tutta la storia del legame fra l'elfo e il ragazzino non mi è importato niente anzi ci sono bravi attori sprecatissimi per un film senza guizzi per un film piattissimo e per un film che non mi è piaciuto per nessun motivo david lowry un regista che ha saputo convincermi tantissimo con storia di un fantasma che considero bellissimo the green knight torna dietro la macchina da presa per il remake in live action del classico disney peter pan e mi sforna questo peter pan e wendy che quando ho visto su disney plus sono rimasto pietrificato è talmente brutto in tutto i personaggi non funzionano il protagonista peter pan che è interpretato da alexander moloni sembra un blocco di cemento tutti gli altri io non volevo fare paragoni con hook di spilberg ci mancherebbe ma peter pan e wendy sembra la rescita di quinta elementare che fanno i bambini di una scuola cioè gli effetti visivi non parliamo ne in alcuni momenti possono essere più riusciti per il resto ogni volta che i personaggi volano si percepisce palesemente che sono legati appesi da qualche parte che poi in post hanno tolto tutto è talmente raffazzonato posticcio peter pan e wendy cioè tu stai facendo il film su peter pan non resta niente dopo la visione l'unica cosa minimamente più interessante è stato il capitano uncino di judo ma sfruttato in maniera secondo me pessima io speravo che capitano uncino potesse a questo punto allora avere un film tutto suo e chi se ne frega di peter pan cioè come aveva fatto steven spilberg hook capitano uncino e poi no si andava anche a parlare di peter pan il ritorno all'isola che non c'è qua se fosse stato un film totalmente uno spin off un prequel su capitano uncino sarebbe stato più interessante che vedere un classico disney e non solo ovviamente disney però vedere un classico della letteratura tutto quel che volete storpiato in questo modo ma non per la fedeltà lo sapete non me ne frega niente ma proprio perché non c'è magia non c'è atmosfera non c'è solarità non c'è energia non ci sono guizzi non ci credo che david lowry non ci credo quello che ha diretto storia di un fantasma che è un filmone abbia fatto questa cosa qua io non ci credo non lo sapete io ho apprezzato molto gli inizi del dc extended universe l'operato di snyder ma non torno sulla vicenda negli ultimi anni però ogni volta che uscivano film legati a questo universo andavamo in sala con la curiosità da incidente stradale viste le numeri le numerose delusioni eppure in the flash di andy muschietti riponevo qualche speranza il grande ritorno di michael keaton nei panni di batman un film sul multiverso chissà cosa potrebbe accadere uno dei cine fumetti più brutti degli ultimi anni cioè voi riportate in scena il batman di michael keaton e me lo mostrate come se fosse un ubriaco alla festa della birra di trezzo sull'adda io veramente quando ho visto michael keaton che faceva tutti quei versi che faceva tutte quelle capriole come si presenta che sembra uno che non lo so ha perso il lume della ragione e si è rinchiuso in casa perché l'alzheimer sta prendendo il sopravvento detto veramente voi mi prendete l'iconografia di quel personaggio la sua iconocità e me la riducete a brandelli mi spezzate in due il personaggio facendomi vedere un batman che se ne frega del prossimo che deve essere quasi convinto ad aiutare ai limiti della costrizione cioè non mi basta vedere lui con la tuta che dice sono batman e lo so che sei batman ma non sei più quel batman che io ho conosciuto cioè quello di tim barton dei due grandissimi film di tim barton era un batman voi volete riprendere quel personaggio perlomeno non tradite le aspettative anche se il resto del film non è riuscito perlomeno tu fammi vedere batman che mantiene anche quella fedeltà nello spirito del personaggio creato da barton non è una nuova incarnazione di batman interpretato quindi da un altro attore non è un personaggio presentato per la prima volta al pubblico c'è un nuovo batman no è quello di tim barton è quello di michael keaton michael keaton michael keaton mai ma proprio mai 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 mi sarei aspettato di vedere batman in quel modo lì mai michael keaton no col cazzo che rivedo the flash perché è poi inconcepibile a livello anche di effetti visivi ragazzi a un certo punto siccome ci si ricorda che si sta parlando del multiverso e siamo nell'epoca dei cameo quindi del ti butto tutto in faccia perché devi godere si fanno vedere ai ai nostri spettatori coraggiosi in sala un pur purrì di personaggi che arrivano da qualsiasi universo e c'è quindi il superman di rips e c'è la maiala della sua cugina e c'è veramente arriva il superman di nicolas cage che pare uscito dal dal game boy color io mi chiedevo che sto che sto guardando cioè perlomeno spider-man no way home potrà avere tutti i difetti di questo mondo però editorialmente produttivamente era una lettera d'amore nei confronti dell'uomo ragno poi si possono trovare errori nella sceneggiatura però penso che i cameo le partecipazioni siano state gestite meglio almeno per quel che mi riguarda qua a un certo punto devono apparire sono sono apparse via ciao tornate non rompete i coglioni uguale e c'è e c'è il superman di lì il superman di là il superman in bianchino e il batman carrozziere non ce la facevo per poi arrivare ad un finale che tra l'altro è anche molto similare al livello di trama al concetto di multiverso di spider-man across the spiderverse però ovviamente ci sono le dovute differenze e io sono arrivato alla fine sono stato anche contento di rivedere il mio adorato batman di george cluney ma the flash si chiama the flash quindi dovrei già smettere di parlarne perché in un flash mi dovrei levare dalle palle dal cinema però è andata così ora a me la commedia leggera italiana piace moltissimo lo sapete quei film come mio solito ripetere che non cambieranno la storia del cinema ma che possono cambiare la giornata del pubblico quindi massimo rispetto wolfango debiasi è un regista che apprezzo tuttora mi ha convinto il suo ultimo film in fuga con babbo natale al netto dei suoi difetti irreperibile su netflix con giampaolo morelli quando è stato annunciato un matrimonio mostruoso il suo penultimo film ho detto dai una famiglia mostruosa per me è stato carino come film che voleva essere un po horror ma anche un po una commedia una rivisitazione italiana della famiglia adams il seguito è inconcepibile è bruttissimo non c'è un minimo di coerenza rispetto al film precedente quindi non c'è continuità fra le due trame perché cose che accadevano nel primo film poi purtroppo non si capisce come nel secondo film potrebbero aver riscontro perché si va totalmente oltre a certe cose che sono state dette allo sviluppo di certi personaggi non far ridere è forzato se il primo film nella sua assurdità poteva regalare anche divertimento si voleva parlare di un lupo mannaro che si innamorava che si innamorava di un'umana e quindi come faceva a rivelarle la verità la portava a casa sua è una sorta di famiglia adams chi vampiro chi quello chi quell'altro nel secondo si vorrebbe strafare si vorrebbe esagerare si vorrebbe forzare la mano con però la difficoltà di far ridere ma anche solo di divertire con espedienti già visti in tanti altri film e realizzati in modo migliore quindi arrivi alla fine e capisci che un matrimonio mostruoso poteva benissimo non esistere che poi tu pensi nel primo si racconta questa storia d'amore quindi il matrimonio poteva essere quello dei due protagonisti del primo film no si vuol far sposare chi è già sposato si vuole inserire un divorzio a tutti i costi snaturare anche la personalità di alcuni personaggi che nel primo film ti mostrano in un modo e nel secondo ti fanno vedere come se realmente fossero dei dei mostri ma i umani non mostri esplicitamente parlando perché tutti lì sono lupi mannari vampiri cioè non lo so quindi si si rovina anche quel che di sensato si era raccontato nel film precedente poi forse mi ci perdo troppo anche io nel provare a farvi capire il perché un matrimonio mostruoso non mi sia piaciuto però fatemi sapere la vostra per me è stato pessimo allora ragazzi il film che inserisco adesso non è certo orribile non è bruttissimo è solamente mediocre però mi ha fatto arrabbiare più di qualsiasi altra pellicola inguardabile mi sto riferendo a indiana jones e il quadrante del destino partiamo da una doverosa premessa chi mi conosce lo sa io non sono un fan della saga non ci sono cresciuto non fan parte del mio genere di riferimento li ho recuperati crescendo i film di indiana jones e comunque li ho apprezzati tutti alcuni tantissimo altri un po meno ma non ce n'è uno che boccio sì anche il tanto odiato quarto capitolo che per me si mangia il quinto perché il quadrante del destino mi ha urtato in questa maniera semplice tu james mangled che comunque sei un regista capace vuoi prendere in mano l'eredità di spilberg quindi vuoi prendere in mano qualcosa di importante che ha fatto la storia del cinema e come capitolo conclusivo mi fai vedere una pellicola stanca con un indiana jones che si vede non aver più voglia vogliamo parlare del ringiovanimento pessimo poi cioè si pensa al grande ritorno di indiana jones e ci immaginiamo un finale al cardiopalma con colpi di scena sicuramente non un film dove si distrugge tutto quello che di buono aveva costruito spilberg il matrimonio è fallito il figlio è morto off screen ora posso capire che quel personaggio non era piaciuto a nessuno a me sì ma sono gusti inventatevi un'altra cosa è a svolgere una missione in chissà quale parte del mondo perché farlo morire perché ucciderlo cioè voi avete mostrato un personaggio per un film che è subito morto capirei l'avesse diretto steven spilberg è lui che ha creato il tutto ed è lui che può scegliere di distruggerlo il problema è che qua non è spilberg a farlo poi ci sono quei film in cui off screen succedono cose ma che sono anche sensate ai fini della trama quando nel bellissimo rocky balboa scopriamo che adriana è morta beh da quella morte si basa tutto lo sviluppo del film così come in creed con il personaggio di poli che aveva già detto tutto ma lì comunque c'era un sylvester stallone che è un personaggio fondamentale nella realizzazione di tutto il franchise che metteva bocca che scriveva qua boh prendiamo tutto quel che è di buono cioè nel film precedente si manda donne di facili costumi la bellezza del cappello che si metteva indie non se la metteva non se lo metteva il figlio quindi come a dire l'unico inimitabile indiana jones è solo harrison ford qua tutto questo sparisce sparisce perché quegli etofine deve distruggersi per raccontare una storia che non ha senso di esistere perché già spilberg con il problematico quarto capitolo l'epilogo l'aveva beccato in pieno era metaforico era allegorico qua si aggiunge un'altra storia come se ne potrebbero aggiungere altre 36 però magari fra quelle 36 poteva essercene una più dignitosa più riuscita con scene d'azione più iconiche con un indiana jones più anche predisposto a mostrare l'umanità a mostrare anche quella parte più triste della vita in cui si invecchia in cui non possiamo più usare la frusta e quindi saltare da un posto ad un altro vedere anche un indiana jones come poteva essere il rocky di creed non forzata come in questo legacy quel come lo vogliamo considerare come in questo accidenta che fa l'erba fuori però ma si potrà io sono qua che voglio fare il video voi non avete idea questo peggio lo sto facendo a straci che bucconi perché stanno tagliando l'erba da due ore ma e piove tra un pochino ma cosa tagliate ma fermi fatemi finire insomma e non mi è piaciuto indiana jones inquadrante del destino l'ho trovato anche parecchio noioso ridondante mi sembra sopravvalutato così parole forti ma sono da ma sono purtroppo o per fortuna oneste io considero sopravvalutato anche logan di james mangold poi non è un brutto film ci mancherebbe è decisamente migliore del quadrante del destino ma non è quel capolavoro che a mio parere tanti dicono preferisco di gran lunga giorni di un futuro passato ora vediamo se posso continuare senza questo martellamento di 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 scroto di questi che tagliano l'erba con quel soffione quello taglia l'erba con l'altro col soffione le foglie glielo infilerei dovesso io ma rimma cinghiala arroventato minuti contati e questi a me i primi due di equalizer sono anche piaciuti perché riuscivano a intrattenermi a coinvolgermi certo avevano i loro difetti ma è un tipo di cinema d'azione in grado di intrigarmi quando è uscito il terzo senza tregua è il sottotitolo ho detto dai potrebbe essere interessante per di più si svolge in italia non l'avessi mai pensato è infarcito di assurdità dall'inizio alla fine la trama fa acqua da tutte le parti ci sono delle cose involontariamente comiche che realmente in sala siamo scoppiati a ridere quando ad un certo punto in un paesino del sud italia il nostro robert protagonista denzel washington denzel washington chiede di mangiare qualcosa del posto e gli fanno mangiare un kebab in sicilia è come essere a napoli chiedere mi fai chiedere mi fai mangiare qualcosa del posto e dargli che ne so il cibo turco io veramente mi domando e dico cosa gli passi per la testa al regista anthony fuqua agli sceneggiatore allo sceneggiatore richard wank perché è proprio sbagliato le scene d'azione alcune ad esempio quella del prologo potrebbero anche funzionare ma è proprio la narrazione a essere schizofrenica è un film dove denzel washington per tutto il tempo sembra non credere al personaggio che ha interpretato molto bene nei due film precedenti poi comunque nei primi due c'era anche un maggior approfondimento dei personaggi secondari maggior introspezione si capiva anche che robert mccall non fosse felice di uccidere era sempre costretto a farlo per svariati motivi qua invece è la sagra della violenza il che non mi dà fastidio ma perlomeno rendimi interessanti personaggi che sono dimenticabilissimi guardi il film finito il film ti sei dimenticato di ognuno di loro non c'è quel ritmo non c'è quell'adrenalina non c'è quel mordente che potevamo trovare nei primi due film della saga questo terzo è bruttissimo non so nemmeno come lo stesso regista dei primi due l'abbia potuto dirigere in questo modo perché anche a livello tecnico è molto più piatto le scene ripeto sono violente ma è a un certo punto una violenza talmente fine a se stessa che avrei gradito un po' di sangue e meno è una storia più approfondita più introspettiva senza rendere robert mccall non lo so un turista che gira per la città e non lo so sembra veramente uno sprovveduto che è rimasto senza portafoglio che cerca qualcuno che gli presta 5 euro che sta tutto il giorno al bar a farsi i cazzi di tutti quindi boh anche qua in tanti non saranno d'accordo con me ma il nervoso che ho provato con bottoms di emma seligman questo film uscito su prime che vorrebbe essere l'american pie del 2023 rivoluzionario che racconta la storia di ragazze lesbiche che tentano di conquistare altre ragazze per farciò creano questo fight club nella scuola con la scusa voi imparate a difendervi contro i maschi che ci provano quindi se siete molestate venite al nostro corso in realtà queste due se ne sbattono altamente di insegnare l'autodifesa ma il loro obiettivo è solo portarsene a letto alla base avrei avrei applaudito per il coraggio di una trama del genere è che vuole essere a tutti i costi il film alternativo come a dire hai visto faccio il film femminista cioè il film avrebbe potuto far capire che alla fine tutti siamo uguali che non solo gli uomini possono essere stronzi ma come è normale che sia anche le donne che tutti siamo un po viscidi ed invece si sofferma su un tipo di comicità infarcito da volga infarcito di volgarità che a me solitamente non dà un fastidio ma che ho trovato inutili cioè come a dire hai visto detto una parolaccia cioè ogni ogni attimo e ho scopato di qui e leccamela di qua e succhiami di su e succhiami di giù ho detto ok e quindi vi devo fare un applauso preferisco di gran lunga un film che ha appassionato un'intera generazione come american pie con i suoi pro e con i suoi contro dove si parlava di sesso di voglia di perdere la verginità al liceo piuttosto che un film come bottoms che ha la voglia di parlare di temi importanti senza saperli trattare che in maniera ripetitiva ridondante ci mostra le medesime dinamiche già viste in mille altri film più riusciti per poi buttarla completamente di fuori con queste scene violente in cui ci si picchia in cui il film diventa improvvisamente una commedia demenziale poi si torna sulla serietà non si sa giocare con i generi io non riuscivo a capire dove volesse andare a parare e quando è finito ho detto veramente ho perso tempo con un film di questo tipo poi a me piace vedere tutto avevo letto delle critiche entusiaste ma mi è sembrato proprio un film presuntuoso pretestuoso irritante che non sto nemmeno a dirvi quante volte durante la visione ho messo in pausa e ho detto vabbè dai continualo fra un po perché non ce la facevo non c'è niente di più che mi irrita di chi si mette sul piedistallo e pensa di essere chissà chi sfornando film che parlano con paroloni di cose che tanti altri anche mestieranti ha narrato ha raccontato meglio con semplicità emma seligman è amata va bene non ho visto il suo film precedente che so essere apprezzatissimo ma questo bottoms ecco le botte le ho prese io guardandolo perché non ce la facevo più per la noia per il tedio che provavo ridatemi american pie molto più capace di divertire non ce l'ho fatta per me film orribile faranno sicuramente un seguito visto il successo che ha avuto ma five nights at freddis è stata una mattonata dietro l'orecchio per me sono andato a vederlo al cinema non sapendo niente del videogioco ma me ne frego perché videogames e cinema sono due forme d'arte che rispetto ma che non per forza devono andare a braccetto quindi non è che lo boccio perché non è stato fedele di queste cose proprio non non sono interessato semplicemente un film horror che non riesce ad essere horror ma al contempo che non riesce neanche ad appassionare è più inquietante spaventosa una qualsiasi puntata della serie anni 90 di piccoli brividi ci sono questi robottoni come vogliamo chiamarli questi personaggi caratteristici che potrebbero essere iconici su grande schermo e spaventosi che sembrano le caricature di garfield per di più la trama non decolla mai ci sono talmente tante assurdità che dici una volta chiudo un occhio una volta ne chiudo un altro quando tu hai finito gli occhi l'unica cosa che puoi fare è chiudere anche le orecchie non ascoltare più perché five night at freddy è un film proprio sbagliato che dura tantissimo poi 110 cioè dura quasi un'ora e 50 e io dicevo ma quando finisce per raccontare sempre la stessa cosa in questo posto con questi robottoni con questa storia assurda con un colpo di scena che capisci sin dall'inizio c'è il povero c'è il povero matthew lillard il mio amato stumacher di scream che capisci dopo un secondo che è lui il responsabile di tutto uno degli assassini ma ma scusate avete matthew lillard me lo fate vedere per tre minuti all'inizio del film e poi scompare dovrei credere che ha accettato solo per quella particina ovvio che ho detto vabbè sarà il cartivo ma poi un film dove non esiste una coralità di persone cioè ci sono soli personaggi importanti ai fini della trama non succedono cose che ho detto ma qua sfasciano il posto dove lavora il protagonista che è quello poi di hunger games non c'è la polizia è solo una poliziotta che arriva lì nel mezzo della notte che poi avrà un legame con un pinko pallino che al mercato mio padre comprò non c'è nessuno che vada a fare un controllo non c'è nessuno che vada a mettere dei sigilli è stato quasi mezzo distrutto un posto cioè è talmente incapace anche di spaventare non c'è una volta che dice almeno sai c'è il jumpscare brutto ma che almeno ti fa fare uno scossone neanche quello pare di vedere garfield insieme a ziggy ve ne ricordate ziggy uguale e non c'è nulla da fare five night at freddy's ha avuto un successo incredibile a tanti è piaciuto e ma è uguale al videogioco e io il videogioco lo uso come frisbee e lo tiro dal terrazzo non mi importa niente questo è cinema poteva essere qualcosa di interessante tanti hanno detto ma sì è guardabile no non è guardabile per me è veramente un film bruttissimo che merita di stare in questa flop 30 e dopo anatar la continuazione dello spaghetti fai italiano ma come fai avancers italian super heroes quella che vorrebbe essere la parodia di the avengers ma anche una continuazione di anatar io sono rimasto in sala così e non so cosa dire ragazzi perché ripensando a quei momenti ho avuto un mezzo mancamento mi sono sentito un attimo andreotti andatevi a vedere la mia recensione non 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 ce la faccio vi basterebbe solo pensare che citando gomorra c'è tipo jenny savastanos savastanos c'è maurizio mattioli presidente degli stati uniti d'america che parla in italiano c'è 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 io ridatemi le parodie di ezio greggio ve lo ve lo chiedo in ginocchio vi scongiuro avancers italian super heroes è un qualcosa di talmente il problema è che io ve ne vorrei parlare ma me ne sono dimenticato quindi e non vado neanche a ricercare qualcosa perché 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 già mi son fatto del male andando al cinema mi permettete di tirarmi indietro se volete vi guardate la recensione e continuiamo questa flop 30 con l'esorcista il credente allora david gordon green da tanti detestato già per i suoi di halloween a me aveva convinto sia con il primo capitolo sia con halloween kills e halloween ends che proprio non mi è piaciuto solo che con l'esorcista gli è andata male perché se tu vuoi prendere in mano uno dei capolavori della storia dell'horror come hai fatto con halloween devi anche saperti prendere le tue responsabilità se in halloween io avevo visto anche rispetto e dignità nei confronti dell'opera originale di john carpenter qua mi è sembrato di vedere uno dei tanti horror orribili che arrivano nelle sale su possessioni demoniache oppure i film sui fantasmi non mi sembra così diverso da un esorcismo di anna grace da un crucifixion da un maremma cinghiala c'ho il diavolo un corpo cioè tutti questi titoli qua e lo si fa in un modo talmente poi parodistico in certi momenti io guardavo il film e non ci volevo credere da quanto è irritante ritorna il personaggio della mamma di reagan che veramente è utile quanto non lo so un preservativo per un pene che non si rizza più e arriva lì nel giro di due minuti viene accecata quindi tu prendi anche un personaggio importante gli fai fare una fine brutale in questo modo senza giocare anche con questo gradito ritorno e lì pare una vecchia con l'alzheimer che non si regge neanche ritta e la cieca va bene ma poi gli esorcismi l'esorcismo finale è più dignitoso quello dell'esorciccio che perlomeno non si prendeva sul serio ma mi riguardo riposseduta dove il ruolo anche di linda blair ritornante era molto più iconico decisivo e incisivo di una linda blair di una reagan che arriva alla fine va dalla sua mamma la guarda negli occhi e palesemente col sottotesto le dice tipo un culo porto due puppa puppami il che c'ho sotto te belzebu e pazuzu e anche il becco del mio babbo che non mi ha conosciuto uguale questo è il finale dell'esorcista al credente che troverete ben approfondito nella mia recensione qua è doveroso parlarne velocemente ed è meglio scherzarci su perché se non ci fosse l'ironia se se bisognasse anche star qua a parlarne con serietà dell'esorcista al credente io io non so dove sbattere l'esorcista al credente ma non ci credo nemmeno io di averlo guardato eppure david gordon green con halloween maremma rampi camuri maremma posseduta maremma acquasantiera l'esorcista il credente l'esorcismo finale mancava un ciuo da circo e veramente sarebbe stato non lo so uno spettacolo di moira orfei mamma mia allora fammi vedere cosa c'è ora nella list maremma putrida jack in the box 2 il risveglio ora cerchiamo di parlarne in maniera seria rispettosamente senza giungere a conclusioni affrettate o senza usare linguaggi scurrili lawrence faller dopo il non riuscito e discutibile jack in the box ritorna per jack in the box 2 ora se dovessi associare questo film a due cose che ho nel mio corpo beh ovviamente capirete che lo associo ai miei alle mie orecchie che sono due oppure altre due cose che ho nel corpo umano ai miei ai miei due occhi che sono due dopo le orecchie dopo gli occhi potrei anche non lo so associarlo ai miei ai miei seni comunque ne ho due potrei ai miei coglioni ragazzi e me con jack in the box 2 il risveglio ed infatti anche i miei testicoli si sono risvegliati io l'ho visto in streaming a un certo punto è saltata la connessione ho detto cosa è successo erano i miei coglioni che erano andati a spegnere la wifi non ce la facevo più maremma cinghiala ma o restaci nel box jack o cosa fai esci sempre tu esci o resta lì e nessuno ti rompe le palle tu esci fuori e tu fa il diavola 4 almeno fallo bene jack in the box 2 e quante volte va a usci resta nel box io ragazzi vi avverto qua mettetevi le cinture di sicurezza e se sentite un allarme bomba è perché sto parlando di tic toc tic toc però tic toc non è il rumore dell'esplosivo bensì è il rumore dei miei testicoli che sbattendo insieme formano questo suono non troppo piacevole ma sicuramente migliore del film di davide scovazzo che è uscito su prime video e che solo la trama è proprio impregnata dal capolavoro di scrittura che nemmeno non lo so umberto eco avrebbe potuto mai pensare o scrivere nelle sue opere siete pronti per anche ascoltare e capire la grandiosità di questa commedia leggera dei disgraziati decidono di rapire eva anger durante una serata per chiedere il riscatto e arricchirsi infatti in locandina come starete vedendo c'è eva anger protagonista no ovviamente c'è in locandina in primo piano succede che ma dopo nemmeno un quarto d'ora dall'inizio del film eva anger prende il covid non può partecipare alla serata e quindi non la rapiscono eva anger prende il covid e non ha più senso ai fini della trama però tu me la metti come immagine enorme sul cartellone mi dici che ha un'importanza che in realtà non esiste perché poi questi disgraziati decidono di rapire degli influencer a cui non frega un cazzo a nessuno questo è tiktok fidatevi di me se siete fan di un certo tipo di commedia di comicità se vi piace gerry calà guardatevi chi ha rapito gerry calà che non sarà perfetto non sarà un filmone ma è decisamente carino ed è fatto apposta per i fan di gerry un film che si trova su prime video e sugli altri siti streaming a noleggio e che vi dico la verità è godibile e sembra quasi che abbia copiato l'idea tiktok in realtà è stato scritto prima chi ha rapito gerry calà ma poi è subentrato questo tiktok dove dove ci sono dei camei poi eccezionali che non vi rivelo perché se volete saperne di più vi guardate la mia recensione ma eva anger io lo sapete che amo i film esagerati tamarri non a caso nel mio meglio inserito fast and furious 10 con shark 2 di ben whitley mi attendevo un capitolo che avrebbe continuato in maniera divertente e sopra le righe il film shark il primo squalo che nonostante sia odiato da tanti a me aveva divertito parecchio invece mi sono trovato di fronte un film dell'asylum 2.0 nemmeno jason statem riesce a salvare il salvabile con questo e i mercenari 4 mi ha dato due tramvate terribili fra 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 veramente l'occhio destro e l'occhio sinistro quindi sono rimasto lì in sala a non credere a quel che stavo vedendo perché va bene la tamarraggine va bene il non prendersi sul serio ma questa è realmente una parodia sembra di vedere un film dell'asylum fatto male se a qualcuno interessa vedere un film dell'asylum si guarda quelli dell'asylum non va a vedere shark 2 l'abisso dove l'unico abisso che c'è quello di scrittura di regia ci sono delle scene ai limite del del ridicolo proprio è proprio un film che non riesce mai a far provare anche quel senso di sorpresa no quando guardiamo film come fast and furious al netto di tutti i difetti che si possono trovare riscontriamo sempre delle delle sequenze che ti fanno dire anche per la loro assurdità wow caspita qua invece mai te speri che tutti schiantino da un momento all'altro quando poi arriva lo squalo lascia il tempo che trova nel trailer c'era anche un dinosauro che io avrei voluto fosse maggiormente protagonista ed invece se si vede un secondo è già tanto ma questo shark 2 l'abisso è una cosa destabilizzante io volevo annegare nelle acque del film in sala e invece sono annegato nella noia una noia che era tanto che non provavo in quel modo e concludiamo questa flop 30 con un film che a tantissimi è piaciuto che è considerato splendido e che è diretto da amaguchi quindi un regista che si è imposto cinematograficamente parlando che ha diretto delle pellicole totalmente e comprensibilmente lodate però purtroppo per quanto non sia un esperto di cinema orientale per quanto sappia che nel cinema orientale il ritmo lento è l'assoluto protagonista perché hanno altri modi di raccontare i registi le loro storie con ritmi totalmente opposti ai nostri e questo non è un problema chi mi conosce sa che io non ho alcun problema con la lentezza anzi amo dei capolavori orientali pensiamo al cinema di bong juno memoria di un assassino parasite ma se penso anche al cinema di rokatsu koreeda di takeshimike se penso apparcian walk cioè sono tutti registi che talvolta con filmoni talvolta con film non per forza capolavori ma comunque che mi han convinto sono riusciti a soddisfarmi sarò la pecora nera ma io con il male non esiste volevo morire mi è sembrato di vedere un film presuntuoso e pretestuoso perché l'ho detto poco fa va bene il ritmo lento ma tutto c'è un limite talvolta mi sembra di vedere i registi che giocano a chi ce l'ha più lungo come a dire io sono io posso fare quel che voglio ed è vero non sono io certo qualcuno che può dirti cambia il tuo modo di fare cinema ma sono uno spettatore che in sala può essere preso in contropiede non accettare quindi rigettare rifiutare quello stile soprattutto quando so che in oriente sempre con un ritmo lento sempre con medesimi espedienti sono usciti fior fior di grandi film già in drive my car io avevo percepito una dilatazione nelle tempistiche di troppo però comunque il film l'avevo salvato seppur si vede proprio lo stile di amaguchi che a me non incanta ma con il male non esiste per raccontare una storia che avrebbe potuto anche stimolare la riflessione visto l'argomento interessante io quell'ora e mezzo l'ho percepita come se fossero quattro ore di telenovela sturca non ce la facevo più già solo l'inizio con il protagonista che taglia la legna 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 vi ho annoiato ecco pensate così quello che avete provato adesso voi per un'ora e mezzo e in sala tra gente che si è addormentata fra gente che accanto a me diceva lento è noioso il male non esiste il male non esiste ma la noia sì quindi se c'è una cosa che a me infastidisce di più del cinema brutto è il cinema di chi saprebbe fare bel cinema ma che invece si crogiola nel proprio ego si adagia sugli allori pensa di essere capace di qualsiasi cosa e nessuno può dirgli più e quindi tira fuori delle opere che perdono di interesse che perdono di mordente che perdono di efficacia e che risultano solamente presuntuose per poi arrivare ad un finale frettoloso che sarebbe stato interessante se sviluppato attraverso un film con un montaggio diverso attraverso dinamiche mostrate non solo negli ultimi dieci minuti ma un po prima quindi il male non esiste a costo di attirare la vostra rabbia per me è proprio un film non riuscito cambierò idea chissà nel frattempo mi tengo stretto altri titoli mi tengo stretti altri titoli di registi orientali che sono di gran lunga superiori mio modesto parere ad amaguchi che dire ragazzi siamo arrivati alla al termine di questo video sui flop dell'anno io vi ringrazio anche qua per avermi seguito proprio come nei meglio sono rimasti fuori dei titoli ora è vero che per quanto riguarda il meglio c'erano delle postazioni libere quindi quelli che per me erano i filmoni li ho inseriti tutti e poi ho messo anche delle pellicole che magari non avevo trovato straordinaria ma che comunque mi avevano lasciato qualcosa e lì ho lottato per dire quale metto quale tolgo invece con con il peggio voi non avete idea in questa lista quanti ne ho lasciati fuori perché ce ne saranno stati almeno almeno 50 io vedo titoli cancellati che avrei messo poi il giochino è proprio questo no escono 400 300 titoli l'anno tu ne devi selezionare solo 30 quindi c'è tanto sacrificio e mi diverto però io qua vedo un cancellato taylor rake 2 taylor rake 2 bruttissimo ma al suo posto ho messo altro vedo the offering cancellato vedo lo strangolatore di boston cancellato vedo i tre moschettieri la prima parte cancellata vedo cos'è 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 vabbè non ci leggo vedo boogeyman vedo la maledizione della queen mary vedo art of stone insomma avete capito che di titoli che avrebbero potuto arricchire il campionario dei film pessimi ce n'erano però è questo il divertimento è questo il gioco io come al solito vi rammento di guardare le recensioni di questi film perché io ne ho parlato approfonditamente poi lo sapete a me piace scherzare ho rispetto per tutti i film anche per quelli che ho trattato peggio ovviamente un lavoro è sempre un lavoro però con l'ironia mi piace anche distruggere un po in toscanaccio quello che non mi è piaciuto non che mi debba giustificare però alla base mi piace sempre dirlo perché se c'è una cosa bella del cinema è che fa parlare di sé cioè fino a che io ho la possibilità anche di vedere film brutti vuol dire che non ho perso la passione verso questa quest'arte che scorre al posto del sangue nelle mie vene poi sarebbe bello vedere film belli però è anche vero che se non guardassi film brutti alla fine dell'anno non ci divertiremmo insieme in questo modo l'importante è non pretendere mai di avere la ragione assoluta anzi se fra di voi c'è qualcuno che ha apprezzato i film che ho bocciato si senta libero di dirlo perché qua non si mangia nessuno perché qua non abbiamo la ragione assoluta io posso argomentare in un modo voi potete argomentare in un altro poi qua l'ho fatto brevemente perché come vi ho detto di ogni film trovereste la recensione approfondita però è sempre doveroso ricordarlo visto che oggi come oggi mai come oggi si creano delle squadre si creano delle fazioni se non ti piace quel film non capisci niente invece a me piace anche assumermi delle responsabilità inserendo un male non esiste di amaguchi o un fast x nel meglio e magari lasciar fuori un openheimer perché se no vivremmo il cinema in modo omologato tutti uguali io penso che il cinema qualcosa ci deve lasciar dentro quindi anche se posso aver sbagliato perché devo rinunciare a dire quel che a me un film ha comunicato solo perché ci sono delle regole da seguire faccio un po le regole come mi pare e siete liberissimi di infrangerle anche voi e non essere d'accordo vi abbraccio vi saluto buon 2024 e che dire seguitemi nei prossimi giorni perché ripartirà un anno succoso di film da vedere da recensire e di cui parlarne insieme non mancate